Barbara Girotti, Col di Retti, Catanzaro, Grotone, Vibo Valencia, siamo qua a Soveria Mannelli per la ripartenza dell'azienda agraria dell'Istituto Superiore Costanzo. Buongiorno, è un'iniziativa che non può che far piacere a Col di Retti in quanto ci sono tanti ragazzi che partono già con una cultura agricola perché comunque sono figli di gestori di aziende, coltivatori diretti e questa iniziativa la ritengo importantissima perché ovviamente ci troviamo in un territorio isolato, già la Calabria è isolata rispetto al resto. Il territorio montano già vive grandi difficoltà quindi dare l'opportunità a questi ragazzi di cominciare a vivere l'esperienza lavorativa ancora a scuola la ritengo che sia una cosa importantissima ovviamente per Col di Retti è il futuro anche delle aziende agricole perché le aziende prese in mano da un giovane che ha 19-20 anni, cosa che fortunatamente oggi succede molto spesso non può che riempirci di gioia, di contentezza.